BOMA DIES, DOMINE MAGISTER NAM CAUSE STABILITATIS PSUNT AUT I MATRICE AD ESSERE CAGIONI CHE UN UOMMO VOIA PER VITUPERARVI INSTRUITIMENTi SEMINARIES E' SI GRANDE FIENZ! Io SON MORTOOO E TUTTE LE DONNE HANNO POCO CERVELO Sė, sė non per conto ma sono già tutto pisciato buonasera messero a sera noi siamo noi noi siamo tutti qui io non mi conoscevo presto mi andavo con questo Liguria mi ha fatto tirare ma voi la contraffate bene la voce San Cucù e mi importa lo mi dico ma lo faccio ora ora mandra a Siro solo solo Siro Siro solo sarà solo essere Siro la spessorio con l'acqua quella benedetta benedetta e son contento siro solo piacce a me Grazie.